ciao a tutti siamo qui ancora con la bottega del tibet con un nuovo set di campane che vogliamo presentarvi una una dopo questo video lo troverete poi tutta la recensione di tutte queste campane che vedete che sono 12 qui abbiamo cercato di dividere per dimensione quindi ci sono quelle oltre i 15 centimetri e quelle sotto i 15 centimetri da questa parte adesso cercheremo di fare una breve a me piace chiamare l'accordatura in modo tale che si conoscano e collaborano e collaborano tra di loro buon ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti